andiamo a spasso tra i nuvole buonasera buonasera a tutti bentornati Marco Di Loreto che è tornato vabbè mi ha spasso tra i nuvole e non è mai andato via perché martedì scorso c'era c'era assolutamente a livello di puntate non ci siamo persi un colpo però è andato velocemente in Portogallo diciamo che strategicamente sono scappato dall'ondata di caldo sei scappato dall'ondata di caldo però sei andato anche per vedere la nube formata dalla sabbia come era sì te la faccio vedere subito ti faccio vedere mentre io mercoledì volavo da Fiumicino verso Lisbona ho beccato appena dopo Fiumicino praticamente tra la Sardegna e Lazio questa foto dall'alto eravamo a 11.400 metri e si vedeva benissimo questo tappeto di più che nuvole diciamo di polvere del Sahara che stava avanzando verso l'Italia e avrebbe creato quello che sappiamo eh sì quella cappa sì quella cappa diciamo che avevamo tra l'altro che ci ha oscurato il cielo fondamentalmente sì l'ha reso lattiginoso l'ha reso soffocante no quella poi si vede che è rossiccia eh sì decisamente rossiccia è andata a pescare proprio nel profondo Sahara questa polvere oh tornerà? no 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 non torna infatti stamattina nel fare le previsioni siccome annunciamo che nel weekend probabilmente ci sarà una nuova rimonta anticiclonica di matrice nordafricana però non andrà a pescare sabbia in modo però torna l'anticiclone torna l'anticiclone invece abbiamo un po' di turbolenze questi giorni ancora un po' di stabilità ma la vediamo con calma dopo di che parliamo? ti faccio vedere una nuvola molto curiosa oggi perché a differenza delle altre che sono il frutto diciamo di effetti ben o male naturali questo c'è lo zampino dell'uomo siamo a Panama City in Florida niente di meno dove si creano quelli che vengono chiamati tsunami di nuvole sì guarda ma lì ci sono i palazzi che non c'è esatto ma infatti perciò dico c'è lo zampino dell'uomo perché queste nuvole che poi sono innocue non creano nulla di che però guarda sembrano dei veri e propri cavalloni vengono determinati proprio da quei palazzi lì cioè vale a dire quando si crea un tasso di umidità altissimo quasi a sfiorare il 100% sul mare vicino alla riva trasportato dalla brezza marina verso l'interno a un certo punto quella aria così carica di vapore d'acqueo va a impattare contro i palazzi sale sopra e crea siccome è già quasi al 100% basta che sale 10-20 metri e crea condensa cioè crea le nuvole sembra un'onda e siccome poi l'ostacolo va superato in tutto quindi dopo il palazzo si crea proprio quest'onda e quindi si creano queste specie di tsunami di nuvole e succede non è una cosa rarissima assolutamente voglio dire potrebbe stare anche da noi sia a Giulia 9 iniziano a costruire palazzi di 50 piani sono altissime e poi guarda quanti ce ne stanno hanno creato proprio una specie di barriera diciamo umana alle correnti marine quindi si viene a creare questa situazione qua e viene chiamato tsunami di nuvole? sì diciamo è stato giornalisticamente possiamo dirlo così è stato chiamato tsunami di nuvole ma è particolare perché ripeto non è un fenomeno naturale è determinato proprio e questo se vuoi in un discorso più genetico ti dimostra quanto sia importante l'orografia anche quella naturale no? quando parliamo sempre del gran sasso che fa diciamo da barriera dal posto del gran sasso piazzavamo dei grattacieli di 3.000 metri ma la riflessione è un'altra se grattacieli che comunque saranno alti non so 150-200 metri di altezza riescono a fare a creare un sacco del genere pensa catene di 3.000-4.000 metri che cosa possono produrre che ti combinano che ti combinano ok chiusa la parentesi ce ne andiamo subito in previsione previsione di mercoledì sì previsione di mercoledì iniziamo allora con questa grafica mercoledì 26 giugno e che cosa abbiamo come personaggi tra virgolette non ci sono i nomi perché non ci sono i nomi perché come vedo allora intanto quella B che trovi a destra si trova forse non si vede bene ma si colloca proprio al centro nord della penisola e si proprio sull'Italia esatto è una goccia fredda in quota cioè praticamente ne sono due una sulla sì sul Portogallo dove ero fino a qualche giorno fa e una sull'Italia ma sono all'interno di una grande vasta diciamo area anticiclonica si sono incuneate all'interno infatti vedi quella linea rossa qui che vediamo in alto ecco diciamo tutta questa zona a sud è tutta anticiclonica però diciamo disturbata da queste due goccia fredda da quelle due B la goccia fredda questa qui italiana che sta praticamente imperversando al centro nord e non ce ne siamo accorti con i temporali già da domenica ce ne sono stati altri ieri anche oggi e continueranno anche domani domani saranno temporali sì anche perché vedi la B continua a stazionare qui anche se sarà l'ultimo giorno perché poi gradualmente si sposterà verso nord est ma teniamo sott'occhio anche quest'altra B perché questa B come puoi osservare sta spingendo verso la penisola iberica e già da domani favorirà la risalita sì favorirà la risalita non da noi diciamo verso la penisola iberica occidentale verso la Francia occidentale scusa la penisola iberica orientale la Francia occidentale segno segno di una questa manovra che appunto di un cambiamento sarà ben evidente poi nei giorni successivi andiamo a vedere la mappa delle precipitazioni per mercoledì vediamola con lo schema perché ne avremo sì allora che cosa diciamo si vedono le precipitazioni che si manifesteranno soprattutto al nord est ma anche sui settori adriatici dall'Emilia Romagna fino alla Puglia e anche da noi in Abruzzo e anche da noi in Abruzzo infatti ho messo nel dettaglio anche la mappa di destra a testimonianza di temporali che si svilupperanno lungo tutta la catena diciamo appenninica quindi Gran Sasso Maiella Monti della Laga eccetera eccetera ma con sconfinamenti possibili anche nelle zone collinarie addirittura verso le zone di mare quello che si nota dalla mappa di destra è che non dovrebbero essere coinvolti invece i settori occidentali è vero per cui diciamo i temporali dovrebbero le concentrazioni maggiori le concentrazioni maggiori provincia di Teramo sì provincia di Teramo in montagna sì esatto Gran Sasso e Monti della Laga ma diciamo oggi questa goccia si trova più o meno si trova qui tra Corsica e Tireno già domani la ritroveremo più verso nord-est quindi tra Emilia Romagna Marche Alto Adriatico ed è per questo motivo che si sposta tutto il non maltempo instabilità nei settori orientali della nostra penisola ovviamente con questa situazione con questa goccia fredda in quota anche le temperature sono piuttosto fresche decisamente frescole vediamo qua le vediamo a livello nazionale con valori vedi tranne la Sicilia la Puglia diciamo la parte la Basilicata che vanno comodamente sopra i 30 la Sardegna che vanno diciamo oscillano sotto e sopra i 30 poi dipende dalle zone zone interne zone di mare mentre invece dall'Abruzzo al Lazio fino a salire verso il nord le temperature sono decisamente più frescoline tra virgolette di 30 non ce ne sono infatti sono comunque siamo in sotto media non se ne parla ma anche siamo 1, 2, 3 gradi sotto quelle che sono le medie del periodo e lo possiamo vedere domani saremo sotto media come temperatura domani saremo così come è accaduto oggi sotto le medie cioè avere 25 26 gradi di massima significa stare 2, 1, 2 gradi sotto la media e lo vediamo anche a livello nostro lì vicino a te con no Pietro un attimo volevo commentare tornare alla temperatura abruzzese ecco guarda qui le zone collinari 27, 28 la zona famosa la costa scende la costa è sempre più più che scende diciamo è classica perché durante il periodo estivo con le brezze del mare il mare è abbastanza fresco e quindi i valori rimangono contenuti anche nei settori aquilani i valori comunque decisamente frescolini 20, 21, 22, 23 gradi quindi valori decisamente freddi quindi questa è la situazione anche per domani mercoledì 26 giugno l'abbiamo sistemato yes 26 giugno sistemato andiamo al giovedì e vediamo come le due B evolvono allora abbiamo vediamo intanto prendiamo la nostra quella questa B qui praticamente se ne sta andando se ne sta andando verso la penisola iberica lo possiamo mettere anche a schermo pieno così si vede meglio dove l'Italia che qui non si riesce a vedere eccola qui e si trova proprio sui Balcani però ovviamente in parte siamo ancora cioè se ne va verso i Balcani la B che stava da noi sì esatto quella con le frecce celesti sì bravo e quindi siamo ancora soggetti a correnti diciamo fresche o nord orientali o settentrionali nel frangente tempo la B che era diciamo all'inizio del Portogallo della penisola iberica sprofonda ancora di più verso penisola iberica e Marocco sì e di conseguenza quella lingua rossa anche violacea quindi temperature veramente roventi inizia ad affacciarsi ancora di più sempre verso tra Spagna e Francia sì Mediterraneo occidentale vedi le isole Baleari e poi a salire verso Francia e Spagna quindi diciamo che l'Italia verrebbe coinvolta solo con le due isole maggiori tutto il resto della penisola è ancora su valori ancora non è coinvolto dall'anticiclone esatto ma prima di vedere le temperature andiamo a vedere un attimo la mappa delle piogge solo per vedere che tutto si sposta precipitazioni di giovedì sì precipitazioni di giovedì ancora un pochettino sul nord est sul mare Adriatico quindi non dovrebbe essere una giornata di pioggia caso mai ancora incerta non sarà lì cielo limpido avremo nuvolosità irregolare potrebbe scapparci qualche isolatissimo scroscio di pioggia ma comunque già giovedì la situazione va nettamente migliorando anche sulla nostra regione l'unica differenza appunto che non avremo cielo limpido sereno tutto il giorno le temperature vediamo le temperature che iniziano a risalire seppur di pochissimo eccole qui i valori vediamo Corne si nota bene come le temperature più alte sono nelle due isole maggiore come ho detto Sardegna e Sicilia iniziano a toccare già i 35 le massime sono alte 37 gradi sul resto dell'Italia ancora tutto sotto controllo tra virgolette ma anche in Abruzzo si inizia a vedere qualche 30 31 nelle solite località diciamo di Scafa quelle più calde dell'immediato interno esatto nelle zone più interne mentre invece per il resto vede al mare 25-26 gradi 27-28 sulle zone collinarie del Terramano e alcuni gradi in meno sia in montagna che nell'Aquilano nella zona diciamo così dell'Altosangro allora andiamo avanti e andiamo a vedere la mappa di venerdì venerdì 28 e qui la B è scomparsa nel senso la B nostra e se n'è andata nei Balcani e si è esaurita ha esaurito diciamo la sua energia la B invece oltre a essere sprofondata tra penisole iberiche e Marocco inizia a spingere anche verso il Mediterraneo occidentale e quindi questo promontore anticiclone questa lingua calda viene da noi si sposta un pochettino quindi inizia l'Italia come vedi non è ancora coinvolta in modo pieno abbiamo una colorazione sull'arancio il rosso invece è ancora tra Sardegna Sicilia e Mediterraneo occidentale fino alla Francia quindi significa che iniziano a salire le temperature ma ancora non abbiamo valori diciamo rilevanti e lo vediamo direttamente dalla mappa delle temperature perché venerdì le piogge non ci saranno in tutta la penisola forse qualcosa sulle Alpi ma non ci riguarda eccoli qui guarda lì Sardegna e Sicilia come iniziano a schizzare i valori partono i 40 partono i 40 41 temperature in risalita anche nei settori occidentali quindi nel Lazio nella Campania qualcosa in Puglia centro nord quindi anche direi in parte noi ancora temperature tra virgolette nella normalità climatica del periodo e infatti noi stiamo abbastanza benerdi vedi le zone nostre lì nella zona collinare si va oltre i 30 gradi ma in modo contenuto 31 al massimo 32 valori che salvo non si esagera diciamo che è una classica giornata estiva poi alla fine fondamentalmente siamo arrivati al 28 giugno siamo a luglio quindi sono le temperature tipiche di luglio quindi nulla di clamoroso sicuramente venerdì rispetto al giovedì sarà una giornata in cui con l'avanzata del promontorio con la diciamo l'uscita di scena della goccia fredda in quota anche dai Balcani probabilmente avremo la prima giornata di pieno sole quindi tornerà a essere azzurro venerdì senza sabbia in sospensione giornata serena sole limpido probabilmente tutta la giornata qualche addensamento cipotino nulla di che probabilmente potrebbe essere la giornata più bella in assoluto sia per quanto riguarda le temperature della settimana sia per quanto riguarda il cielo insomma un po' tutto il contesto complessivo a questo punto siamo alla sigla ah beh weekend fine settimana sabre e domenica abbiamo la cartolina è l'ultimo martedì di giugno quindi è finito pure giugno e quindi siamo al 2014 nello specifico quattor no che cosa è 25 giugno 2014 spopolava quella questa canzone durante i mondiali del 2014 si andava questa canzone sentiamo questo rap italiano che ebbe successo soprattutto grazie a Sky a Sky Sport che in quell'anno che era la musica si diciamo la sigla esatto divenne la sigla dei mondiali 2014 di Sky e quindi ebbe questo successo diciamo notevole in Italia no non te lo ricordo non me lo ricordo a perciò o tergiversare non era Chilla Chilla c'è ragione sì grazie del supporto no Fausto Emis Emis è un rapper italiano però si chiamava Emis Chilla ma è lui però è lui è lui assolutamente lui va bene torniamo a noi andiamo a vedere che cosa accade sabato che quindi come abbiamo fatto già ormai da due settimane approfondiremo anche i tassi di umidità la temperatura del mare il mare tutto allora eccoci qui guarda quella curva come entra a pieno titolo sulla penisola italiana si vuole prendere l'Italia la lingua rossa quindi il caldo arriva in pieno nella penisola italiana la B quella che nel giorno di venerdì era praticamente vicino alle Baleari si sposta si scivola si scivola tra Francia meridionale insomma va un po' in avanti nel frangente tempo però attenzione a questo movimento qui questa B questo ciclone molto più sì c'è una scienza di aria più fredda che andrà in qualche modo a diciamo unirsi a quella B lì e sarà quella diciamo che non determina nessuna cosa particolare nel weekend ma sicuramente andrà a cambiare il tempo nella prima settimana di luglio perché poi vediamo ci sono delle carte particolari per la prima metà di luglio cioè brutte no brutto non lo so però freschetto sì allora comunque molti saranno contenti eh sì io sì anche tu assolutamente però sicuramente sarà una prima metà di luglio che se quelle carte fossero vere poi le vediamo fra un attimo insomma resteranno un po' di instabilità tanto per cambiare non tanto a noi che potrebbe essere anche qualcosa di nuovo ma al nord Italia dove praticamente l'estate ancora non è iniziata mai allora dicevo quindi quella lingua in piena Italia si vedeva dalla mappa diciamo non ci siamo soffermati ma si vedeva che il confine tra quel promontorio era proprio il nord ovest e infatti guarda lì infatti il nord ovest pioverà ma pioverà dire poco sono delle colorazioni violente quindi c'è rischio perché vanno a incontrarsi le due correnti caldissime dal nord Africa e molto fresche dal nord atlantico per cui la linea di convergenza potrebbe essere tra Piemonte Lombardio e Valle d'Aosta e vivere ahimè fenomeni davvero violenti spero che queste carte vengano ridimensionate nei prossimi giorni sul resto della penisola niente di che diciamo il nord Italia qualcosina vedi in Abruzzo sembra vedersi sono semplicemente dei temporali di calore un po' come è accaduto anche se io ero in Portogallo ma osservavo qualcosina venerdì scorso se non sbaglio c'è stato qualche temporale di calore qua e là sui monti nelle ore pomeridiane non ricordo nulla potrebbe accadere questo se andiamo a vedere questa mappa che è quella di Icon modello inglese indicherebbe possibili occasionali temporali di calore nelle zone dell'Aquilano nella parte alta diciamo nel settore occidentale quindi sul resto della penisola anche sabato sarà una bella giornata ovviamente la rimonta anticiclonica di stampo nordafricano non dovrebbe portare assolutamente la sabbia o se no in quantità assolutamente risolta le temperature un po' le temperature saliranno ma diciamo essendo diciamo di stampo nordafricano potrebbe esserci qualche velatura quindi non c'è l'olimpido azzurro come il venerdì dei veli non è escluso non è escluso per quanto riguarda le temperature invece come dicevi bene si inizia a salire in modo serio anche nel centro Italia soprattutto nei settori occidentali guarda tra Toscana Lazio già si schizza sui 37 39 nelle aree più interne stessa cosa sabato fa caldo si sabato fa decisamente caldo da noi temperature in risalita ma ben lontane dai 39 40 42 della settimana scorsa quindi sottolineiamo e specifichiamo che sarà sì un'ondata calda sarà di nuovo breve ma non avrà assolutamente nulla a che fare con quella vissuta nei giorni scorsi assolutamente molto molto più blanda di colorazione del cielo di temperature che saranno quindi non dobbiamo preoccuparti no no anche perché ci tengo a sottolineare che rispetto alla settimana scorsa anche le minime non saranno caldissime quindi la sera diciamo a una certa ora la mitica area di magnanella arriverà in azione in quel di terra ma come tutte nelle zone in tutte le zone interne quindi diciamo perché ovunque c'è un po' d'aria di magnanella la sera sì ma quella è la brezza di monte è la brezza di monte che è area che dai monti riscende verso le aree collinari quindi il tutto renderà questo weekend assolutamente diciamo un pochettino sopra le medie del periodo però ci può stare sì assolutamente di stampa estivo direi cioè il paragone con la scorso weekend è improponibile per tanti fatti non sarà così non sarà così andiamo avanti con la domenica a questo punto abbiamo giustamente tasso di umidità allora abbiamo il tasso di umidità che ci evidenzia che cosa che nelle aree interne siamo alle ore 14 quindi al massimo del caldo siamo diciamo in stress termico solo esclusivamente nelle zone di mare quindi sarà un po' più a foso verso il mare perché nell'Aguilana addirittura secco sì appunto nell'Aguilana addirittura secco però c'è da dire che nelle zone di mare è vero che ci sarà un 60-70% ma ci sarà la brezza di mare quindi nelle ore centrali alla fine si sta bene soprattutto per chi sta in spiaggia andiamo a vedere invece a questo punto anche la situazione del mare le temperature dell'acqua bene eccolo qui abbiamo tre grafiche in alto abbiamo le temperature a secondo delle fasce orarie ti dico subito anche se da qui non si vede bene comunque siamo sui 22-23-24 gradi le temperature del mare nel grafico intermedio l'altezza delle onde si vede bene che comunque onde diciamo un pochettino un po' più mosso chiamiamolo così nelle prime ore del giorno quindi durante la notte più che del giorno e poi la situazione si calma con la solita curva in basso invece l'ultimo l'ultimo grafico che ci indica i momenti della bassa e dell'alta marea ah già la stazione che ho preso a riferimento quest'oggi ma poi alla fine il nostro mare è più o meno uguale è Fossacesi abbiamo fatto questo viaggio tra Terra e Chieti e quindi andremo avanti trabocchi si esatto poi ogni settimana pescherò una stazione nuova ma si questo sito meteopesca che diciamo consiglio per chi fosse veramente meteopesca si chiama che consiglio per chi diciamo è interessato poi a sapere veramente nei dettagli l'evoluzione perché poi in quel grafico intermedio ci sono anche i venti la direzione del vento insomma può essere utile per chi soprattutto diciamo vuole andare in mare con la sua barchetta o cose del genere giusto andiamo avanti con la domenica domenica previsione per domenica allora la domenica che succede succede che la lingua quella calda inizia già a lasciare il nord Italia praticamente noi siamo a confine regrediscio perché la B la B con tutto il suo la sua circolazione diciamo che avevamo già la B la spinge spinge il tutto spazza via questa vedi questa lingua che si va già inclinare e si sposta verso le regioni centro-medidonale tant'è che io adesso ho utilizzato il modello europeo che mette diciamo l'Abruzzo ancora all'interno diciamo dell'onda calda chiamiamola così però alcuni siti per esempio quello inglese addirittura spazza tutto verso sud quindi la domenica non cambia nel senso che non sarà brutto tempo però potrebbe essere più fresco quindi manteniamoci cauti dicendo che domenica sarà ancora una giornata calda però potrebbe anche essere sabato il giorno più caldo in assoluto vediamo la mappa delle precipitazioni vediamo le piogge le piogge eccole qui come vedi soltanto un po' il nord-est qualche disturbo ci potrebbe essere da noi quindi diciamo soprattutto nel Terramano come vedi ma non si tratta di giornata brutta si tratta semplicemente di qualche temporale di calore che potrebbe nel pomeriggio sera andare a niente di particolarmente impegnativo assolutamente no quindi nel complesso dovrebbe essere una bella giornata anche domenica le temperature le temperature di domenica eccole qui vedi che il gran caldo 42 gradi addirittura è anche in Gargano e da noi abbiamo ancora i 35 soprattutto al centro-sud area settori adriatici quindi pescarese chietino con 35 ma la situazione ripeto potrebbe essere anche migliore di questa diciamo questo flusso migliore cioè con temperature minori nel senso un po' più basse rispetto a queste comunque comunque sia anche se fosse così sarà l'ultimo giorno con temperature calde già lunedì si torna a temperature normali al fresco sì andiamo velocemente a tasso di umidità per farti capire che la situazione non cambia di molto o meglio cambia un pochettino verso la zona di costa che diventa ancora più con tasso di umidità elevati si può arrivare anche all'80% quindi potrebbe essere un po' più fastidioso verso il mare sulla costa sì però con la brezza marina il tutto sarà molto stemperato le temperature del mare così concludiamo il giro anche per quanto riguarda domenica le temperature iniziano un pochettino a salire ma sempre sui 24 gradi di massimo quindi il bagnetto che diventa assolutamente gradevolissimo le onde saranno un po' più alte anche nella mattinata poi inizia con il passare delle ore la situazione si riduce e poi sotto potete vedere i punti di bassa e alta marea andiamo velocemente agli spaghetti meteo così ti faccio vedere che ci dicono gli spaghetti meteo allora vedi 26-27 giugno quindi fino al 27 saremo sotto media sotto media temperature come le stiamo vivendo oggi l'abbiamo vissute oggi e ieri poi quella periodo 28-30 sopra ma per capirci la settimana scorsa quando c'è stata la grande ondata calda siamo stati sopra quella diciamo area gialla quindi per dirti che le temperature saranno sopra media ma non eccessivamente ma non come quelle della settimana scorsa poi crollo all'inizio settimana arrivo del flusso atlantico e si ritornerà o in medio o addirittura sotto media quindi quella zona azzurga fino al 6 ma anche dopo volendo andare oltre 7-9 luglio non sono previste nuove ondate di caldo quindi la prima decada di luglio un po' come abbiamo detto la settimana scorsa si conferma che non dovrebbe essere caldissima possiamo fidarci di queste previsioni diciamo sono abbastanza attendibili te lo faccio vedere in modo più dettagliato in queste due mappe anzi in queste quattro mappe complessive la vediamo velocemente la prima ecco queste sono le anomalie delle temperature della settimana dal primo al 7 luglio come vedi tutta l'Europa fatta eccezione proprio per il Portogallo e per l'est europeo sono in anomalia negativa quindi temperature più basse mediamente più basse di 1-2 gradi rispetto a quella media trentennale la mappa dopo invece ci dice le precipitazioni le anomalie delle precipitazioni e come vedi l'Italia è al verde un po' di più c'è vero? esatto potrebbe essere soprattutto se il verde è più acceso soprattutto nei settori orientali quindi potrebbe essere per noi una settimana abbastanza dinamica ricca di temporale e di stabilità la settimana dopo ci spingiamo quindi fino a metà luglio dall'8 al 14 luglio ancora anomalia fresca o in media o azzurro soprattutto al centro nord esatto quindi però a testimoniare che la prima metà di luglio sembrerebbe una prima metà piuttosto fresca non calda non eccessivamente calda rapidamente l'ultima mappa quella delle precipitazioni e siamo in perfetta normalità non c'è nel verde nel marrone quindi normalissimo concludiamo con la chicca meteo chicca che rimaniamo in Italia e andiamo a vedere questa cosa questa zona affascinante lago di Nemi Castelli Romani uno dei laghi diciamo così vulcanici questa diciamo è la veduta quasi al tramonto come vedi spettacolare perché l'ho messa perché l'ho messa come curiosità perché questo questo paese Nemi è un paesino di meno di 2000 abitanti e a 531 metri di altezza ha questa posizione invidiabile che lo rende il paese chiamato delle tre lune delle tre lune ma sin dall'antichità qui veniva venerata la dea Diana sin dall'antichità e la dea Diana che è la dea diciamo anche della luna oltre che della diciamo della fertilità del bosco e così via ti faccio vedere l'altra foto fammi vedere e ringrazio Bruno che Bruno un signore insieme a Paola un signor Bruno paccato che non si vede mannaggia non si vede e i contrasti non era così che dove essere eccola grazie Pietro Pietro risolve sempre le chiavi di Pietro di San Pietro esatto allora le tre lune perché in alto abbiamo quella del cielo e la vediamo poi se vai più in basso dritto per dritto c'è quella quel giallino riflesso che è il mare la zona transio e ostia per capirci e poi questo zigozago qui sul laghetto che rappresenta diciamo la terza luna mi ero perso quella sul mare e quella rossiccia sul mare di là oltre le luci del paese si si vede un pochettino e questa foto me l'ha girata e poi questa del lago si esatto questa foto me l'ha girata questo signor Bruno che ho conosciuto in Portogallo che è di Nemi e mi ha raccontato questa storia sulle tre lune fin dall'antichità tutti si è andati a documentare bravo addirittura lo sai che cosa ho scoperto che pare che Dante Alighieri nella commedia eh sì nella divina commedia nella divina commedia stiamo citando Dante Alighieri si è ispirato nella famosa frase la selva oscura in lago di Nemi te l'ha detto il signor Bruno no questo mi sono riformato io non me l'ha detto comunque scherzi a parte saluto saluto a Bruno e Paola sì grazie mille di questa chicca e abbiamo sforato quindi il record non lo mettiamo lo metteremo la settimana prossima ci fermiamo va bene il record doppio record doppio record la settimana prossima va bene grazie Marco sai quando ci vediamo martedì ci vediamo a luglio o parti ah lui non parti però forse parti tu parti tu non parti no non parti ci vediamo martedì prossimo arrivederci arrivederci a tutti a presto a presto Grazie a tutti